Ok, però no in spagnolo, quindi un po' lo capiamo Trollano il primo game, ma no, dura un po', quindi non penso Non l'ho mai visto lui giocare, raga Stai combinando, una banana Ok, allora, lui è morto allo start, quindi non è messo benissimo, 70 di mazza, raga Quindi è proprio messo male Benvenuti sul mio canale e benvenuti in un nuovo video Io vi ricordo che sono presente su tutte e tre le piattaforme e di seguirmi Dato che il nome è uguale su tutte, è molto semplice da ricordare Vi ricordo che con Amazon Prime la sub è gratuita e quindi avete tutti i vantaggi dei sub a costo zero Buono Ruotano per la safe Ok Ruotano strani loro Molto lenti Ok, si sono presi i like, eh ragazzi A tre lì Bello solito, eh comunque Aia Zero kill, raga, non è che fanno troppe kill allo start Non so dove si buttano Erano top 12 Ok Non so dove si buttano, raga Gli ha chiamato il morto prima che fosse morto Raga Vieni, vieni Ora si Sono belli i carichi però Ti vedo Ti vedo Ok Non ne sbagliano una, eh comunque, di rotation, di niente Proprio 0-0-0 Sì Hanno preso l'aig, raga Ah no Il secondo haig hanno preso Lo tirarono, lo tirarono, lo tirarono Ti ho high, ti ho high, ti ho high Sì, sì, sì Sto in una mierda riforzata, amigo Wow Si sono presi i like, raga Così, dal nulla Comunque giocano in un modo strano, eh raga Cioè lui ha Il DMR, il pompa Non ha la switch praticamente Non gioca con lo switch Eh, giocata male Sesto Sincero, non ho capito perché Erano qua in aig Ok, questo Questo Gli voleva prendere l'aig Qui va lì, giustamente Perché gli vuole prendere l'aig E loro vogliono tenere l'aig E quindi gli va addosso Per 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 ucciderlo Sì, sì, sì Dash, dash, dash Ha capito che con il dash Era andato via Si fa la banana, ok Perché l'altro non è più su Perché l'altro non è più in aig Non ho capito questa situa Per andare a pushare uno Perdono l'aig Non lo so Pisce che va via Si torna su Ho giocato un po' male Cos'è FNCS? È il torneo più grande che c'è di Fortnite Dove si possono vincere Fino a 3 milioni di euro E poi i vari scaglioni Per le qualificazioni Ok, no Vamo da qua Delisando no, amico È listo o no? Ok, sono solo ma era Ma solo legna Sono legna Aia, aia Avevo appena detto che era solito Mannaggia 27 persone 26 contro Da solo È tosta? Niente Vai in safe Che ci muori Tredicesimo È voluto Si buttano sempre qua Montolimpo Sto a morire Sto a morire Sto a morire Sto a morire Ok Ok Allora Allora 44 persone contro 2 kill 104 sopra lo storm Lui tiene sempre Sto DMR Secondo me farebbe più danni Con la mitraglietta Soliti Il compagno è Rizen Oh ma hai capito Che cavolo hanno fatto Ma hai capito Gli ha fatto Cioè come La chiamata È stata Mostriamogli Che siamo 2 E quelli Se ne sono andati Io non ho capito Per quale motivo Sì ovvio Che se sono in 2 Non push Però Cioè Lui proprio Sta così Guarda Mostriamogli Che siamo 2 E quelli Se ne sono andati Che grande Ce l'ha fatta Prima sti spagnoli Ora muoiono Perché il video Finisce della partita Però Ottavi Oh ma comunque Fanno una media Di 78 punti A partita È possibile Tanti E Wow Bella giocata Lo vuole ressare No dai Non penso Che sia possibile Regà È sopra il furgoncino Praticamente Da solo è tosta Vediamo come sarà Gioca in 1v2 Appena preso una kill Grande Un po' di mazzo Se ne hai presi Wow Sta giocando benissimo Da solo Regà Spettacolo Bravo bravo No Sta full Eh si Tenete guardito Tenete guardito Tenete mini Tengo Tengo Passami Passami Stai white Stai a pegarlo Corrote Corrote Sono sotto di Storm Ma devono fare Un po' di danni Sennò Di rompe le scatole No Wow Wow Ora che casino Il compagno gli è morto È solo È quasi dentro la safe Mamma mia Bravi bravi Tre punti presi Top 19 Ce n'è ancora di top da fare Eh raga È solo 21 punti solo di questo game Non sono tanti Pensano ad andare in safe secondo me Eccolo Infatti Si si dentro E niente Se lo vuole giocare così Allora Sempre un pelo di Di Posizionamento fuori dalla safe Con il medikit E poi con il dash Vanno dentro Così rimane dietro Può Può spammare le persone Bella come modo di Di entrare Ciao Arti Benone Tu come stai caro Purtroppo sto facendo L'aggiornamento Bello È più di così Non poteva fare Ho pochi punti Ci sta Però era da solo Però bella come modo Di entrare Lo mi ha soldato Allora Allora Allora